Un attaccante veloce, rapido, sgusciante che fa gol è questo, quello che serve alla nazionale come abbiamo visto ieri. Oh, naturalmente non sto parlando di immobile, sto parlando di Lapadula che ha segnato una doppietta nel Perù, che tra l'altro è poi una partita che è andata 3-3, finita i calci di rigore, c'è su di tutto. Insomma, al di là delle battute, credo che ieri sera ci siamo tolti non solo la soddisfazione di vedere l'Italia che vince, e questa è già una grandissima cosa, ma anche la piacevole scoperta che in Italia si può fare un altro calcio, che in Italia si può fare gioco, che si può sopraffare l'avversario attraverso il palleggio, attraverso l'organizzazione, attraverso la scelta di elementi utili al tuo gioco. La partita ieri sera ci ha regalato anche altre due considerazioni da fare. La prima è che, anzi più che una considerazione è un consiglio, quindi ci ha regalato un consiglio che voglio darvi e poi un'altra considerazione. Il consiglio che voglio darvi è questo. Non lo so, non lo so, spero di sì naturalmente, ma non lo so quante altre volte potrà capitare di vedere una nazionale italiana giocare così, una nazionale italiana affrontare tutti con questo spirito e andare avanti nella competizione ed essere favorita per la vittoria finale. Io ho avuto la fortuna di vivere, ovviamente in maniera consapevole l'82, in maniera molto consapevole il 2006, ma anche il 2000, insomma anche il 94. Sono esperienze uniche, sono emozioni per chi ama questo sport naturalmente. Poi invece c'è chi ama soltanto la contestazione e la polemica, chi deve a tutti i costi sfogare della propria aggressività, va bene, sapete che a me queste cose non piacciono, però se qualcuno arriva e il primo pensiero che ha è su Donnarumma e sul fatto che non ha rinnovato a Milan, io sinceramente gli do una virtuale pacca sulla spalla e lo guardo come si guarda una persona per la quale ci si dispiace perché in questo momento, con questa squadra, in questa situazione, non godersela è veramente un peccato. Ripeto, non so quante volte possa capitare, quante altre volte potrà capitare questa cosa, tenendo presente che insomma la nazionale gioca di fatto ogni due anni quando ci arriva e già questa cosa allunga un po' i tempi. La vita è breve, ecco io direi godetevela se posso dare un consiglio, godetevi questa nazionale perché è una bella squadra e merita tutto il nostro affetto. Poi dopo se uno proprio non riesce perché non lo so, perché dentro di sé c'è il fuoco dell'odio, vabbè allora fare i suoi insomma. La seconda cosa che abbiamo imparato ieri è che l'allenatore conta, l'allenatore conta tantissimo, riuscire a costruire una nazionale che ha un'impronta così vicina a quella che può avere una squadra di club è una cosa sensazionale e io sinceramente a parte, come dire, a parte forse la Spagna del periodo magico che aveva comunque dei giocatori che erano abituati a giocare insieme perché il loro centrocampo era Buschezzi, Iniesta e Ciavi che giocavano tutti in Barcellona quindi sapevano già cosa fare. Da noi non c'è un blocco come in altre volte e come altre volte abbiamo sfruttato e anche questa cosa deve far crescere la considerazione e la stima nei confronti di Roberto Mancini che ha fatto fin qui un lavoro straordinario. Poi dopo martedì usciremo, passerà la Spagna, tutto quello che può accadere accadrà. Però quello che abbiamo visto fino adesso nel suo percorso è un qualcosa veramente più unico che raro perché ripeto, riuscire a portare in nazionale concetti di gioco come quelli espressi dall'Italia, sinceramente non è una cosa facile, non è una cosa semplice, anzi è una cosa molto complicata perché sappiamo bene i tempi a disposizione dei commissari tecnici sono pochi, la disponibilità delle squadre è un po' quella che è, la nazionale non ha vissuto per colpa sua un periodo particolarmente florido e quindi di conseguenza è stata un po' snobbata. Però adesso si va verso quello che io mi auguro possa essere davvero un nuovo corso, però siccome non si sa come vanno le cose e l'Italia-Svezia è sempre dietro l'angolo, ecco che è meglio godere adesso di questa vittoria e di questi successi per poi non pentirsi un domani e dire mi sono perso l'occasione perché stavo lì a odiare Donna Rumma. Poi c'è la questione spinazona naturalmente, purtroppo rottura del tennine d'Achille, un infortunio molto serio, molto rognoso e sono veramente tanto dispiaciuto per lui perché è un ragazzo, perché al di là dell'europeo, al di là del calcio, ma proprio un ragazzo sfortunato che avrebbe potuto fare un'altra carriera e che adesso si stava riscattando e purtroppo è incappato di nuovo in questa cosa ed è veramente una nota troppo stonata in una serata così, è veramente un peccato. È veramente un peccato per poi tornare al calcio che, ripeto, è secondario, ma per inquadrare cosa sarà l'Italia senza spinazzola è un peccato perché noi avevamo veramente costruito tanto del nostro gioco da quella parte, cioè dalla parte sinistra dove abbiamo non solo Insigne e Spinazzola ma avevamo anche come dire, come abbiamo fatto ieri sera, una tendenza a spostarci da quella parte, quindi a orientare anche il gioco dei due centrocampisti di palleggio, cioè Giorginio e Verratti da quella parte proprio per favorire gli scambi con giocatori che potevano dare tecnica e profondità come Spinazzola, che potevano dare tecnica e idee come Insigne e quindi perdiamo da quel punto di vista una nostra fonte di gioco. Però io non sono preoccupato, sono molto dispiaciuto, questo sì, ma non sono preoccupato perché l'ideale con il quale questa nazionale partita, cioè il fatto che siamo un gruppo, abbiamo alternative, chi entra fa bene, non è solo uno slogan, è una realtà perché abbiamo visto che chi è entrato ha fatto bene. Chi più chi meno, ma tutti hanno dato il loro contributo, abbiamo visto Roccatelli, abbiamo visto Pessina, abbiamo visto Chiesa, abbiamo visto Cristante ieri sera, tutti quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo. Sono convinto che Mancini penserà e studierà soluzioni alternative, adesso poi c'è da capire a destra ad esempio se Florenzi recupera e potrebbe essere l'alternativa a destra per avere un giocatore di spinta sugli esterni, anche se in realtà poi guardando anche le posizioni medie di ieri sera ci rendiamo conto di come tutti e due terzini dell'Italia siano piuttosto avanzati e di spinta, cosa che tra l'altro ieri ha permesso di tenere Bassi, Mounier e Thorgan Hazard. Però ci sarà sicuramente qualcosa che potrà inventarsi il commissario tecnico per sopperire alla mancanza di Spinazzola, alla spinta sulla sinistra, alla superiorità numerica e anche al dialogo tra i giocatori. giocatori che meritano, come ha scritto l'amico Eros, soprattutto in Giorginio una menzione speciale, ieri 99% di passaggi riusciti. Verratti è anche stato quello, adesso non mi ricordo la statistica ma l'ho letta, mi pare il giocatore che ha completato il maggior numero, non mi ricordo, comunque anche lui numeri pazzeschi dal punto di vista statistico, insomma un centrocampo così più barella con poi Locatelli e Pessina in panchina che voglio dire sono altri due giocatori che potrebbero essere titolari in altre nazionali, perché adesso noi siamo sempre come dire e giustamente affascinati dai Witzel, dai Tilemans e tutta sta gente qua. Però ieri ieri non l'hanno vista sinceramente, l'hanno vista poco, hanno faticato tanto, quindi adesso dobbiamo anche elevare giustamente a un altro livello i nostri giocatori che sono nelle prime quattro squadre d'Europa, si giocano una semifinale da favoriti, così come erano favoriti ieri sera, stando le quote, ieri sera Emanuele mi ha già mandato le quote e posso dirgli che anche per la pari dei martedì siamo favoriti, ma questo conta il giusto, però dobbiamo cominciare secondo me a guardare i nostri con un altro occhio, con l'occhio di una squadra che ha un centrocampo, straordinario, probabilmente il migliore centrocampo, anzi no, ha il migliore centrocampo d'Europa e di conseguenza del mondo, se avete seguito un po' la Coppa America vi renderete conto di come alla fine il calcio europeo sia il calcio che conta e quello sudamericano sia molto in declino, dico purtroppo, ma molto in declino rispetto a qualche decennio fa e questa cosa va assolutamente evidenziata perché veramente riuscire a gestire il pallone nel modo con cui l'hanno gestito ieri sera i nostri è un qualcosa di, ripeto, di un livello superiore e che non abbiamo visto tante volte in nazionale, abbiamo avuto delle squadre che al centrocampo erano forti, abbiamo avuto sicuramente Pirlo, però giocatori così combinati tra di loro con le caratteristiche per poter gestire il pallone in un certo modo e non l'abbiamo avuto tante volte, ecco perché, ritorno all'inizio, come nel Monopoli, godetevi questa nazionale, godetevela perché non si sa che cosa capiterà, è un po' come la vita, cercate di godervi la vita, ma proprio non è un consiglio il mio perché non do consigli a nessuno, non sono nessuno per dare consigli, è solo così un invito, diciamo, un invito, questa è un po' la mia filosofia di vita, godetevi i momenti, godetevi serate come quella di ieri sera e fate il tifo per l'Italia, oppure se non vi piace non fate il tifo per l'Italia, ignoratela, ma non fatevi prendere dal bisogno di dover attaccare quello perché ha vestito la maglia del Milan, quell'altro perché non ha rinnovato, adesso è Italia, pensiamo, mi allargo un pelo, poi se divento profeta me lo dite, come diceva Beppe Grino, mi metto il naso rosso, ma pensiamo anche a un livello un po' più grande, più fuori dal calcio, a superare certe cose, perché secondo me farebbe bene un po' alla vita di tutti quanti, pensiero del sabato mattina, visto che sono immerso nella gioia e anche un po' nella stanchezza della serata di ieri, voglio lanciare questo messaggio all'umanità, buon sabato a tutti amici, ci sentiamo stasera per parlare delle due partite perché poi stasera andremo a conoscere chi dall'altra parte arriva, tra Inghilterra, Ucraina, stasera Roma, poi c'è Danimarca, Repubblica cieca, ci vediamo nel corso della giornata.